Il meeting è propedeutico per la presentazione della scuola di alta formazione che stiamo lanciando, purtroppo come sapete non si può andare in sala e quindi inizieremo online già a maggio. Il 16 e 17 maggio inizia la scuola, 50 crediti ECM, per chi è interessato si mette in contatto con Monica Grant di Upainuk e quindi mi sembra una grandissima opportunità per rimanere allenati perché bisogna essere proprio con un atteggiamento ottimista prima possibile di ritornare alla vita normale. Allora, un'introduzione a una giornata importantissima perché come sapete avremo questa conferenza e una lezione magistrale direi, che poi saranno temi affrontati nella nostra scuola, del grande dottor Pietro Passi che si occupa proprio da sempre di infiammazione, di lipidomica in particolare e quindi avere una sua lezione penso che sia una grandissima opportunità per tutti quelli che si occupano di salute e di prevenzione soprattutto. Avremo poi domani il dottor Bartolomeo Legrini sulle costituzioni carboniche, quindi epigenetica, la neuroendocrinometabolica, insomma tutte le correlazioni psicologiche e una lezione che è stata molto apprezzata e quindi vedete che chi parteciperà non se ne pentirà perché è veramente qualcosa di straordinario. Poi vi anticipo i prossimi la grande marantona online di domenica 19 con il dottor Burgio che ci farà dei chiarimenti sulla situazione Covid, situazioni prospettive. Il grande professor Mauro Miceli sul ruolo della carenza di ossigeno nel sistema immunitario e quanto oggi è importante il sistema immunitario e mi ha detto di anticiparvi che ci saranno delle grandissime novità da un punto di vista scientifico di pubblicazioni, di ricerche a proposito di immunità, di sistema immunitario e poi avremo ospiti Francesco Balducci, Massimo Spattini, Biava, insomma sarà una giornata meravigliosa quindi prenotatevi. Allora introduciamo l'argomento, se è vero che l'informazione è prevenzione, è vero che l'epigenetica ormai sta sopra la genetica che probabilmente dovremmo un attimino anche condividere insieme a ripensare un pochettino quelle che è l'istangiopatia congenita acidosi enzimo metabolica e quindi l'infiammazione silente. È vero che poi tutte le cose che noi sappiamo dal nostro stile di vita, da quello che respiriamo, che mangiamo e l'ambiente in cui viviamo fanno la differenza. Come possono fare la differenza? Lo sapete meglio di me, ma uno dei principali fattori che non vengono oggi valutati attentamente sono quelli dell'inquinamento e quindi di tutto quanto il ruolo dell'inquinamento non solo a livello del nostro stile di vita ma soprattutto prima della vita, quindi salute dei padri, delle madri prima del concepimento e tutti questi fattori condizionano pesantemente la salute dei nostri future generazioni perché sappiamo che la riprogrammazione delle cellule avviene già prima nella pancia della madre e quindi nel micro ambiente materno, ma non solo. Sappiamo poi quanto gli interferenti endocrini stanno giocando un ruolo fondamentale, ne parlerà Balducci proprio domenica. Sappiamo anche che pochi valutano la carenza di ossigeno solamente quando è troppo tardi. Oggi siamo tutti a comprarsi il pulsimetro, ma quanto c'è l'ossigenazione e quando è troppo tardi abbiamo visto quanto sia fondamentale la respirazione forzata. Penso che dovremmo pensarci come forma di prevenzione oggi. E cosa c'è della più grande forma di prevenzione? Di incominciare a pensare che noi mangiamo per produrre idrogeno, respiriamo per avere l'ossigeno, ma non mangiamo e non respiriamo più in un ambiente come 200, 200, 300 anni fa, come ci insegna sempre anche il professor Burgio. Quindi dobbiamo tenere presente che se è vero che da questa combinazione noi produciamo l'energia per la vita che ci permette la moneta di scambio di tutte le reazioni metaboliche del nostro organismo, è vero anche che oggi siamo in carenza sia di nutrienti che di ossigeno che di idrogeno. Pochissimi parlano della importanza dell'idrogeno per la nostra salute. Pensate che il professor Cossarizza già nel 2014 ha pubblicato un lavoro interessante dove riteneva proprio che è il DNA mitocondriale che decide la longevità, ma non serve andare così, guardare questo studio perché già la Fondazione Medicina Mitocondriale ci dice, attenzione, 1 su 2.500 persone nascono con un difetto, una disfunzione mitocondriale congenita, quindi ecco l'istangiopatia congenita, aziosi metabolica che non consuma nella maniera ottimale l'ossigeno e quindi probabilmente dobbiamo intervenire prima a scopo preventivo. Ma lo sappiamo, questo sito interessante che è Mitocon, dai un futuro ai tuoi bambini, se ne occupa da tantissimi anni e vi assicuro che è un sito che andrebbe comunque letto, consultato da tutta la medicina. Perché? Perché, come ci insegna la Fondazione di Medicina Mitocondriale, tutte le malattie sono legate a una disfunzione mitocondriale congenita. Allora l'importanza di ricaricare le batterie, certo, non quelle del cellulare ma della nostra vita, a livello soprattutto mitocondriale. E quanto sia importante valutare la linea materna? Sappiamo che l'ereditarietà avviene attraverso, soprattutto attraverso la disfunzione mitocondriale trasmessa dalla madre. Adesso sappiamo anche dal padre, in una percentuale, perché dal momento del concepimento, oggi come oggi, il liquido seminale maschile è progressivamente intossicato da metalli pesanti, inquinamento, informazioni che non arrivano nella maniera corretta al feto. Quindi mettere insieme anche queste informazioni nella valutazione di un approccio preventivo penso che sia fondamentale per il futuro. Come l'infertilità, sappiamo quanto l'infertilità oggi sia un altro problema gravissimo. Anche qui si dice, e gli studi stanno andando, sul fatto che i campi elettromagnetici stanno interferendo sulla fertilità e continuiamo a dare il cellulare ai bambini già in età troppo prematura, già nella pancia della mamma subiscono radiazioni. E pensate poi alla disfunzione mitocondriale, anche in questo caso, legata all'infertilità. Ma perché questo? Perché le nostre cellule, soprattutto, di cosa hanno bisogno per prosperare e rimanere sane? Allora, sicuramente tutti noi sappiamo che dobbiamo iniziare dalla salute delle nostre cellule. Allora, prima di fondamentale, il fattore fondamentale è l'ossigeno e guardate quanto sia fondamentale l'ossigeno. Perché l'ipossia crea un danno ipossico, stagnante, istotossico, anemico, porta a una riduzione in sintesi ATP. E pensate quanto questo ricopre un ruolo fondamentale quando poi c'è un danno endoteliale, quando non c'è più l'elasticità delle arterie. Pensate alla carenza di silicio, per esempio. Pensate a una disfunzione mitocondriale proprio endoteliale. E' quindi lì che si creano i danni. Quindi non c'è un consumo ottimale di ossigeno, inizia l'infiammazione, superamento delle difese antiossidanti, stress ossidativo, e quindi danno a livello cellulare. Come l'ischia mia riperfusione, responsabile di ictus, infarti, eccetera, eccetera, emorragia cerebrale. Quindi tutelare questo fattore è fondamentale. La carenza di ossigeno va contrastata come prevenzione, non quando è troppo tardi. Eppure, se noi parliamo di ossigeno ai vari convegni, lo sapete meglio di me, e pochissimo si parla del fatto che è indispensabile per la nostra vita, ma non se ne parla. Scusate, ma c'è ancora qualcuno che apre il microfono. Chi è che apre il microfono? Allora, una sufficiente ossigenazione cellulare, diceva Geaton, è responsabile di qualsiasi sofferenza o malattia cronica. Ma non serve parlare di Geaton. Sappiamo già che nel 1931 Warburg ha preso il premio Nobel e dimostrò che la carenza di ossigeno provoca patologie neurogenerative, ma anche metastasi, eccetera, eccetera. Sappiamo quanto è indispensabile l'ossigeno, è la scintilla per la vita, quindi responsabile del sistema umanitario. Ecco, oggi il focus principale dove voglio puntare è proprio il fatto che la cellula viene danneggiata sia dall'interno che dall'esterno. Vedremo poi come il dottor Pietro Paggio parlerà di quanto sia indispensabile la lipidomica della cellula per prevenire l'infiammazione, ma pensate la disfunzione mitocondriale, il DNA mitocondriale, quanto sia importante anche nella riprogrammazione a livello cellulare. Candiolo lo dimostrò nel 2003, questo è un articolo dove vedete, dove si legge chiaramente, attenzione, la carenza di ossigeno è in grado di generare metastasi e ancora uscì questo giornale importante sulla stampa, questo articolo, il cancro è il favorito della carenza di ossigeno. Ma bisogna pensare solo al cancro? No, io penso che dobbiamo pensare all'infiammazione, quindi ogni forma di carenza di ossigeno provoca un danno a livello cellulare, acidosi, stress ossidativo, infiammazione. E anche questo studio, pensate 5 paesi, 5 anni, 21 paesi nel mondo, 21 paesi a livello europeo hanno dimostrato quanto sia importante l'ossigenazione per migliorare le terapie, soprattutto la terapia oncologica, la radioterapia, la chemioterapia, eccetera. Questo è uno studio importante, leggetelo perché ne vale la pena. E lo stesso ancora loro, già nel 2017 sono usciti con lo studio, attenzione, la carenza di ossigeno è fondamentale per la modificazione epigenetica. E poi ne parleremo ampiamente il domenica, il premio Nobel 2019 è stato dato a questi tre grandi scienziati, di cui il numero uno è Semenza, che ha dimostrato quanto sia importante il fatto di controllare come la cellula si adatta alla carenza di ossigeno, modificazione AKF1. Quindi le hanno chiamati i segugi dei sensori dell'ossigeno. Quindi fisiopatologia e fisiologia e fisiopatologia oggi dovrebbero essere un po' riscoperti. Si arriva quando è troppo tardi, perché le cellule reagiscono all'ipossia e si attivano per difendersi. Ma quando questo adattamento supera una certa soglia, inizia la malattia. Le pubblicazioni ce ne sono tante. Questa è la diapositiva dell'insegnamento del premio Nobel. Guardate, fisiologia, fisiopatologia, metabolismo e poi malattia. Ma come mai se ne parla ancora poco di questo, dell'infiammazione legata all'ipossia? Noi abbiamo pubblicato questo libro nel 2015, edito da Edra, La modulazione fisiologica di ossigeno on demand. Perché? Perché l'ossigeno ha sempre il rovescio della medaglia. Sappiamo che se non abbiamo una modulazione ottimale di ossigeno, si può essere un eccesso di radicali liberi e iperossia. Quindi dobbiamo sempre controllare la corretta ossigenazione. Perché? Sappiamo che siamo 100.000 miliardi di cellule. Prima di essere degli organi siamo delle cellule. e miliardi di mitocondri. E le patologie iniziano a livello cellulare. Dove vivono le nostre cellule? Dove vivono? Mesenchima, tessuto connettivo, tutto il discorso del drenaggio, della disintossicazione del nostro organismo per liberare quelle cellule dalle tossine che, ehmè, progressivamente, come sappiamo per la matrice extra cellulare, si intossica progressivamente. Allora riportiamo l'attenzione su quello che occorre per produrre energia a livello mitocondriale. Perché se questo danneggia, come sappiamo, provoca un'ossidazione, se succede a una mela, la prendiamo, la buttiamo via. Se succede a una cellula, ce ne accorgiamo quando è troppo tardi. Allora l'importanza del fatto di modulare l'ossigeno e quindi controllare sia l'iperossia che l'ipossia. Abbiamo varie terapie, sappiamo quanto è importante anche l'ozono in questo momento, ha risultati veramente importanti che stanno ottenendo in vari ospedali. Quindi l'ossigeno è fondamentale. E noi lo proponiamo da ormai tantissimi anni con, sapete, il deutrosulfazime, questa molecola importantissima arrivata in Italia 21 anni fa e nel mondo 50 anni fa. Oggi è dimostrato che è in grado di liberare ossigeno con un'azione antiossidante 30 volte più elevata del plasma umano. Questi sono gli studi pubblicati, quindi quando si parla di qualsiasi nutraceutico è bene parlare anche di pubblicazioni, dimostrare quello che si dice. Queste sono le cellule endoteliali UVEC prima e questo dopo. Come vedete c'è una rittivazione da prima a livello nucleare e poi a livello mitocondriale con un miglior rapporto nutritrizio e tessuti, ma soprattutto una modulazione dell'espressione della superossimo dismutasi. Ecco la prova del fatto che abbiamo un nutraceutico in grado di abbassare abbassare lo stress ossidativo e aumentare la capacità antiossidante come poi abbiamo dimostrato in tutti i lavori pubblicati anche su 230 pazienti con patologie neurodegenerative. Studi pubblicati e quindi se ne può parlare liberamente perché sono su PAM. L'ultimo regalo che ci hanno fatto è questo studio dell'Istituto Mori e Genera di Roma dove hanno combinato il self-food da radioterapia e chemioterapia hanno visto la riduzione della massa tumorale fino al 70% in questo studio preclinico. Quindi ecco perché è fondamentale il ruolo della modulazione fisiologica di ossigeno on demand. In tutto questo contesto sapete che mi occupo da tantissimi anni di inquinamento e vorrei appunto farvi questa domanda. Quando è l'ultima volta che avete sentito parlare di inquinamento e tutti dicono beh sempre se ne parla tutti i giorni Whatsapp ormai ci riempie di 5G, 4G, 3G inquinamento dell'aria il fatto che le aree più colpite dal Covid sono inquinate vabbè tante cose che dovremmo comunque confermare però sappiamo che l'inquinamento è un grossissimo problema da risolvere. Se io vi dico cosa fate voi personalmente per voi e i vostri cari per risolvere i problemi dell'inquinamento la risposta è poco e niente perché l'aria non la puoi cambiare. L'ambiente dove vive si cambia devi assolutamente pensare di cosa fai apri le finestre fai circolare l'aria ma puoi cambiare l'aria che respiri in una città dove vivi penso proprio di no e lo stesso ne ha i cibi sempre più contaminati allora noi dobbiamo agire per rafforzare il nostro sistema immunitario perché l'inquinamento a livello epigenetico proprio grazie all'ambiente lo stress e l'eredità modifica l'espressione dei nostri geni soprattutto rimodella la cromatina e sapete quanto a livello istonico questo può creare i problemi all'edello del DNA e le patologie infatti sono in aumento le difese immunitarie sono sempre più basse la rimettilazione del DNA è fondamentale certo però spesso ce ne dimentichiamo l'accorciamento dei telomeri i fattori fondamentali per il controllo dell'omocisteina è anche questo un fatto importante come vedremo infiammazione lipidomica ma anche omocisteina stress ossidativo sappiamo delle carenze nutrizionali fondamentali a partire dalla carenza di ossidio allora tutto questo diventa fondamentale vedere le cose a 360 gradi cosa fare se prevenire è meglio che curare l'air se ci dice attenzione nella comparsa dei tumori conta l'epigenetica le mutazioni sono trasmissibili fino alla terza generazione e questo penso che sia un'informazione ufficiale che dobbiamo prendere in considerazione quindi proteggere il dono della vita e io dico sempre quante volte abbiamo pensato alla salute dei padri delle madri prima del concepimento sono abituati a smettere di fumare quando si accorgono di essere in stato interessante se vuoi un bambino non devi fumare attenzione ai tatuaggi a livello della pelle entrano in circolo nel linfatico e possono creare dei problemi e sappiamo quali sono questi problemi già a livello fetale distruttori endocrini metalli pesanti particolato aerodisperso questo crea un'intessicazione già nel feto e allora se le cellule sono malsane hanno un problema si moltiplicano in maniera non sana e quindi la differenziazione avviene con qualche problema e dal mondo bambini con qualche problema di salute e lo sappiamo ma quando questo c'è anche una concausa disfunzione mitocondriale oltre che epigenetica i problemi si sommano e ce lo dice il senato della repubblica con questo documento ufficiale effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori del malformazione effetto neonatali ed epigenetica scaricatelo leggetelo perché è illuminante per la medicina e per chi poi deve ha a che fare con i propri pazienti e questa è un'altra prova l'inquinamento dell'aria 500.000 morti premature in Europa al primo posto chi c'è? l'Italia possiamo andare avanti così? e guardate allora mettiamo a posto quello che mangiamo e respiriamo scegliendo però la qualità dell'acqua dell'aria e dei cibi perché questo altrimenti crea una riduzione della produzione di ATP a livello mitocondriale e quindi stanchezza cronica firmomialgia dolori e spossatezza finché questo diventa malattico e poi sapete è inutile continuare a dare coca cola e est a te pensando che siano di accontattare le persone perché dare 35 grammi di zucchero a un bambino che ci dà la coca cola penso che sia un grosso problema visto che nel sangue ce n'è solo 2.5 grammi di zucchero quindi 467 mila morti l'anno in Europa per inquinamento metalli pesanti non entriamo in questo nel contesto perché poi verranno affrontati il 19 nei vari dai vari relatori però è vero anche che noi compriamo pubblicità e stiamo vivendo in un mondo malato e che questa è la nostra fotografia questo dovremmo comprendere cosa stiamo facendo alla nostra società e stiamo pagando le conseguenze a 360 gradi e poi i campi elettromagnetici guardate cosa accade a un bambino di 5 anni 10 anni non adulto eppure oggi come oggi siamo costretti in luoghi chiusi col wifi non si spenge il cellulare diamo il cellulare ai bambini come babysitter li facciamo dormire con il wifi acceso e soprattutto gli adolescenti non lasciano quel cellulare e i genitori penso abbiano paura di dirgli no non lo usi perché chissà per quale motivo penso che dobbiamo riappropriarci un attimino dalla nostra vita perché andare avanti così ci facciamo del male e l'air ce lo diceva nel 2011 ma proprio sono uscite delle due settenze ultimamente che hanno dimostrato se lo usi parecchie ore al giorno può essere molto nocivo per il tuo cervello quindi attenzione ma già nel 2012 questa ricercatrice ci metteva attenzione Howard dall'università di Harvard ci metteva in guardia sul fatto che una concausa nella neurologia infantile e i disordini neurocomportamentali potevano derivare anche dall'uso di wifi e campi elettromagnetici poi abbiamo il forno a microonde per le nostre case sappiamo che chi vive qua sotto ha veramente dei problemi il wifi ormai nessuno si vuole più staccare dormiamo in quel modo e viviamo in un ambiente così allora non solo dieta non solo l'acqua che beviamo ma soprattutto ambiente stiamo attenti all'ambiente perché questo riprogramma le vite delle future generazioni e poi ha voglia di dire mancanza attenzione e concentrazione quindi danneggia soprattutto il feto attenzione perché siamo acqua l'acqua a contatto con i campi elettromagnetici riceve comunque un danno e mettere continuamente giorno giorno il nostro corpo a contatto con i campi elettromagnetici come vedete crea un problema allora se abbiamo un problema l'uomo intelligente si fa grande perché lo risolve io penso che un uomo deve farsi ancora più grande quando riesce a evitare un problema come ci insegnava Einstein allora ecco l'epigenetica noi creiamo un report sappiamo che il cappello è un biomarker fondamentale che può captare tutti i segnali e archiviare le informazioni preziose come metalli pesanti come le sostanze chimiche nocive e essere un biomarker fondamentale anche di prevenzione di prevenzione perché se io riesco a leggere i segnali prima che diventino un problema posso agire in termini di prevenzione e come fare prendo questi quattro capelli che archiviano tutte le informazioni che sono proprio l'USB della nostra salute perché è come un USB che tu metti nel computer e scarichi nella memoria le informazioni lo stesso il capello che le archivia per 80-90 giorni e anche di più le mettiamo su una bobina che genera uno spettro di frequenza e poi il professor Spaggiari ci spiegherà domenica come funziona dal punto di vista tecnico vedete questa è una bobina lui genera uno spettro di frequenza dall'ultravioletto all'infrarosso e quando io metto il capello andiamo in risonanza queste frequenze con il bulbo del capello il bulbo del capello è ancora vivo e quindi perché il test viene fatto dopo un minuto e siamo in grado di leggere molte informazioni ed ecco alcune informazioni che possiamo leggere e possono essere utili non come diagnosi ma per migliorare l'anammesi verso i nostri pazienti quindi migliorare la qualità della vita sapere soprattutto quanto sia importante c'è qualcuno che non chiude il microfono quanto questo è importante può essere contaminata da campi elettromagnetici oppure essere irradiata dormire in un posto dove c'è radon vivere lavorare dove c'è radon metalli pesanti sistema gastrointestinale o sapere le carenze specifiche di questa persona e generiamo un report di 34 pagine importanti di informazioni che possono essere messe insieme all'anammesi classica che fa il nutrizionista e il medico questa è una pagina riassuntiva vedete ho proprio preso questa perché è molto utile oggi vedete acidi grassi per esempio e qui segnala oltre alle carenze di vitamine il sistema neuroendocrino nel riepilogo eventuali eliminari non è un test di intolleranza allergie non c'è e valutare la persona nel suo insieme a 360 gradi in questo caso vedete l'acido alfa lipoico e l'eicopantenoico e quindi andiamo a valutare bene la lipidomica e le carenze di questa persona questo poi è la pagina dove spiega e fa vedere nel dettaglio la situazione della lipidomica degli acidi grassi essenziali nello specifico di quella persona questo test viene utilizzato anche dai centri di medicina integrata della riproduzione ormai ci sono più di 160 centri in Italia aperti cosa possiamo fare ripartiamo da qui se è vero che l'informazione è prevenzione che l'epigenetica modula a seconda dei vari fattori che sono contaminati l'inquinamento la tossicità i metalli pesanti le carenze nutrizionali i pensieri la postura tutto l'insieme noi dobbiamo agire prima che poi questo diventa un'infiammazione cronica un problema e allora rafforzare il nostro sistema immunitario questo è fondamentale e come facciamo rafforzare il sistema immunitario se non conosciamo dove vive dove lavora cosa ha bisogno prima che diventi un problema perché se io faccio un esame e valuto la carenza di vitamina D è un parametro io devo avere un insieme quanti esami dovrei fare per conoscere veramente il danno e poi ritenete che quello che dico sempre è se tu fai un esame a scopo preventivo non parlo di diagnosi di malattia mandi via il campione ti ritorna tra 15 giorni e fai un'anamesi la metti insieme a un'anamesi che hai fatto 15 giorni prima di quell'esame che hai avuto dopo 15 giorni quindi non è una visione una fotografia reale della persona in quel momento e allora dico questo che la vita è davvero semplice eppure insistiamo complicando ecco che è con molto piacere che abbiamo oggi come ospite il dottor Pietro Pace e che è un onore averlo qua e quindi è piacere di passargli la parola grazie a tutti